Ciao a tutti dalla Tg regionale per sordi, un uomo di 36 anni di Fabriano, provincia di Ancona, Paolo Paladini è morto all'isola d'Elba, esattamente nella località di Lacona, in un incidente stradale accaduto stanotte verso le 1, dopo che il quad sul quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone si è ribaltato. C'erano anche due giovani elbani rimasti lesi e il conducente, che è stato ricoverato in ospedale con diverse contusioni. Il conducente avrebbe perso il contorno del mezzo che si è ribaltato, nell'impatto il 36enne che si trovava sul sedile del passeggero ha sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto, rimanendo schiacciato dal telaio del mezzo ed è morto sul colpo. Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà invece era succo concentrato e sofisticato di mela. A scoprirlo la Guardia di Finanza, che ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro di sei società e di beni immobili e immobili per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa per contrastare una maxifrode in commercio di prodotti biologici diretta dalla procura pisana con la collaborazione di Eurojust ed eseguita dagli ispettori del Dipartimento Antifrode del Ministero delle Politiche Agricole. Hanno scassinato la porta del garage e poi hanno rubato l'ambulanza che vi era custodita e le casacche dei volontari divertendosi a filmare con il cellulare la loro bravata per poi postarla su Instagram insieme alla scritta chiamate un po' il 118 Nino Nino Nonino. Percorsi 500 metri, hanno abbandonato l'ambulanza appena acquistata e ancora da inaugurare in mezzo alla strada e poi si sono dati alla fuga a piedi. L'episodio vandalico è accaduto nella notte tra sabato e domenica nel comune di San Marcello Piteglio ai danni della Croce Verde di Prunetta. Sul caso indagano i carabinieri che erano stati allertati da alcuni passanti. Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento di Piazza Duomo a Firenze. Le fiamme scaturite da una canna fumaria sono state però domate dai vigili del fuoco. nessuna persona è rimasta ferita. C'è stata un po' di preoccupazione sul posto. È intervenuta anche la polizia. È l'adinazione la notte scorsa in un condominio di Via del Podestà in zona Galluzzo a Firenze. I malviventi hanno visitato due appartamenti al primo piano mettendo a soquadro le stanze e portando via gioielli per alcune migliaia di euro. Per entrare hanno forzato le finestre sul posto. La polizia avvisata dai proprietari rientrati a casa ieri intorno alle 23.30. Nuovo presidio oggi davanti al caffè storico delle giubbe rosse di Piazza della Repubblica Firenze. Nuovo appello alle associazioni imprenditoriali fiorentine per il salvataggio appunto dello storico locale. Ad oggi il futuro è tremendamente incerto. Siamo alla terza asta andata deserto sostiene Filcams CGL Firenze e speriamo che il Tribunale di Firenze continui con l'esercizio provvisorio e provveda anche a fare la quarta asta. Vogliamo denunciare che siamo di fronte al fatto che non c'è uno straccio di imprenditore che abbia la volontà di rilevare questo marchio storico. Recuperato dalla polizia un pony fuggito da un recinto che ieri pomeriggio vagava in via dei Vespucci nei pressi del parco delle Cascine a Firenze. L'animale notato da numerosi automobilisti che hanno avvisato il 113 è stato avvicinato e calmato da agenti di polizia del reparto a cavallo. Sul posto è intervenuto anche un veterinario che ha accertato le buone condizioni di salute dell'animale e poi è stato restituito al proprietario. Con otto cacce a due i rossi del quartiere di Santa Maria Novella si sono aggiudicati ieri sera alla finalissima del calcio storico 2019 contro i bianchi di Santo Spirito. Fin da subito la sfida si è messa in discesa per i rossi che sostenuti dai loro tifosi l'hanno fatta loro per il secondo anno consecutivo conquistando il tradizionale premio Una Vitella. A seguire la finale insieme alla propria famiglia e al sindaco di Firenze e Nardella il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha disegnato magnifico messere della finale. Una curiosità, una targa per ricordare il luogo in cui il cocktail Negroni venne servito per la prima volta a Firenze nel 1919. Così il Campari ha celebrato il centesimo anno dalla nascita del cocktail considerato il secondo più popolare al mondo. e oggi per iniziativa di Gabriele Maselli, presidente dell'Associazione Esercizi Storici Tradizionali è stata svelata la targa affissa sulle pareti dell'ex caffè Casoni nei pressi della centralissima piazza della Repubblica dove nacque il celebre cocktail a base di Campari, Vermut Rosso e Gin in onore del conte Camillo Negroni. E siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana sereno o poco nuvoloso venti deboli settentrionali in regime di vrezza lungo la costa dove risulteranno a tratti moderati mari poco mossi temperature in ulteriore aumento con punte anche di 38 gradi sulle pianure interne e caldo intenso però con tassi di umidità limitati Anche per questa sera è tutto grazie per averci seguiti arrivederci